ma perché come mai ma perché in cucina non ci entro mai eh cosa c'è nella padella che profumino fai assaggiare un pezzettino ma che bontà ma che bontà ma che cosa è questa robina qua ma che bontà ma che bontà ma che gustino questa roba qua ma che bontà ma che bontà ma che gustino questa roba qua vitello delle ande no bovino della gallura no ma che cosa sarà mai questa robina qua Ma perché, come mai, ma perché, in cantina non ci vengo mai, eh, bello questo vino, vino di una volta, fai assaggiare un gocciettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, parolo delle langhe, no, aleatico dell'elba, no, ma che cosa sarà mai questa rubina qua ma perchè come mai ma perchè in gelateria non ci entro mai eh che cioccolato dammi un cucchiaino fai assaggiare un pochettino ma che bontà ma che bontà ma che cos'è questa rubina qua ma che bontà ma che bontà ma che gustino questa roba qua grazie a tutti